grazie duilio di sto weekend romantico e se da sola non volevi venire cancaro ma generoso buongiorno signori buongiorno benvenuti nella nostra struttura sono vianello il vostro personal assistente qualsiasi evenienza qualsiasi cosa domandate a me quanti giorni vi fermate sabato domenica allora bagaglio leggero non serve il carrello lei è ottimista questo è il mio minuto vieni guarda guarda insomma è il minimo indispensabile il minimo indispensabile un frigo e io a bordo me lo metto e sparafogli se c'è polvere in camera e slittino come femmo divertirsi il minimo indispensabile beh effettivamente una roba in più che potevo assare a casa e invece la comporta via cosa io vabbè carichiamo poco ti cavi a scaricarla tanti anni fa passate stare faremo dopo seguitemi vieni 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 questo era il quinto carrello abbiamo finito grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie grazie purtroppo non ho moneta mi spiagge nessun problema cardo o banco ma ah e le ganchava ma fate anche questa che bello dviglio non mi pare neanche vero che diamo un po' di tempo per rilassarsi insieme da quanti anni si è che non si rilassavamo un poco eh sarà l'89 e seguiamo con i sui nel 90 ma che bello qua podemos fare piscina tennis squash ping pong paestra mountain bike excursionismo arrampicata tornei di calcetto tornei di pallavolo tutto scusa Ines siamo in vacanza o siamo a giochi senza frontiere? vieni non ti preoccupare se rilassiamo qua tornei di calcetto siamo serviti e riveliti 24 ore su 24 dai eh si quando hai bisogno mi sto qua grazie ah proprio anche a 24 no 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 tuiglio ti hai godito di non mettere il freddo che ho fatto in paese guardate questa casa è il costume ma ma è ma deve portare il costume è il costume questa casa si adesso io che ne compremo un altro o mi tocca girare il mondo a fare tutto l'albergo manco manco gol parte Grazie Grazie